Buongiorno, grazie a tutti, oggi siamo qui per fare il livello segreto Dopo aver fatto i P-rank in tutti quanti quelli del primo atto Bisogna andare qua, nel 3-1, in questo ponte qua E c'è questa porta molto minacciosa con tutti i P-rank Io ho un po' paura sinceramente Ho un po' paura, ho solito fare un milione di punti Ok, sì, sì, va bene, B, C, D, B, X Fammi andare avanti Ok Ok, dobbiamo seguire questa spina dorsale gigante, sembra Mi butto Porca puttana Forse non è il caso di andare come di disperate Sicuramente dovrò pirancare anche questo, ma sicuro, guarda Vedo l'ora Non vedo l'ora proprio, guarda Ok, c'è una porta lì, vedo, vedo Ah Ah, qua dobbiamo entrare Torcia Ok Va bene, va bene Ah, va, ok Questo secondo me è il prevedore a merda Aspetta, proviamo a fare così L'ho mancato pure, è fantastico Oh ma, non curarlo Porta puttana Non c'è C'è il buco nero di Minos Oh ma, non c'è Oh ma, non c'è Oh ma, non c'è Oh ma, non c'è Che casino però Ma, ma qualcuno si è curato Ma ragazzi La vedo dura però, eh Sinceramente Allora, prima sparo sti cosi qua Perché veramente, guarda Grazie a tutti. 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 Sei morto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.